Ciao, siamo qui oggi per raccontarvi un'altra importante vittoria del Movimento 5 Stelle in commissario affari costituzionali, mentre si sta esaminando il disegno di legge delega sulla pubblica amministrazione. Siamo riusciti a far passare un emendamento sugli amministratori delle società partecipate. Cosa sono le società partecipate delle amministrazioni pubbliche e delle regioni e delle comuni? Sono quelle società che dovrebbero in teoria erogare i servizi ai cittadini, come la raccolta dell'immondizia, come il trasporto pubblico locale ed altre cose. Quelle società che spesso e volentieri sono dei veri e propri poltronifici quando non hanno dei fatturati che sono dei buchi neri. Che cosa siamo riusciti a raggiungere? Ce lo spiega Claudio. Grazie al nostro emendamento, per tutti quegli amministratori che avranno dei risultati economici negativi non verrà dato loro né bonus né premi di alcun tipo. Cioè siamo riusciti a fare quello che nella vita reale capita, se sei un cattivo amministratore e non lavori bene per la tua azienda, la tua azienda non fa utile, non vieni premiato. A questo serve il Movimento 5 Stelle, a portare un po' di buon senso nell'amministrazione della cosa pubblica.